Oggi è l'8 8 22, il giorno di picco di un portale energetico che si è aperto il 26 di luglio e che si chiuderà il 12 di agosto. L'8 è un numero simbolicamente molto importante, infatti se lo guardate bene è praticamente un simbolo dell'infinito girato in verticale che sta a simboleggiare l'infinita connessione tra il mondo delle emozioni superiori con il mondo delle emozioni materiali. Infatti pare che questo sia il momento più propizio per il concretizzarsi di tutte quelle manifestazioni che hanno a che fare con il mondo materiale, la casa nuova, l'auto nuova, la vacanza ecc. Il metodo migliore per manifestare, secondo me, è quello della gratitudine. Rimanere costantemente in uno stato di gratitudine, anche senza avere un motivo, ci consente di accedere direttamente al catalogo dei desideri dell'universo. E vi ricordo che l'universo utilizza una formula ben precisa, che è questa. Ogni tuo desiderio è un ordine.